La patata è ferma qua, adesso lì fa il manichetto, lì fa anche il ferretto, non tirare devi svitare, chira, 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 chito per far fritta nell'olio, fritta, se no fa il forno con pollo, questa si chiama pollo o patata, pollo e patata, se non piace il pollo piace i cani, cani e patata, buono il cano e il buono con la patata, qui metti carne ripiena, salsiccia, formaggio, se no fai patata col buco per dimagrire, vedi la pancia che c'hai, se vuoi dimagrire, si mani al buco, non mani alla patata, Se vuoi infilare la carotina, ti entra la patatina, ti ricordi? Come? Si, e metti la carota, entra la patata là, e fai carota e patata insieme con il pollo qua, guarda, mia socia non era cattiva, quando infilare la carota, guarda come diventate buona, guarda, carina, bella, buona, se vuoi fare carota e patata insieme, viene una carota e una patata, fanno insieme così, guarda che bella, quando fa zucchina piano, la patata spinne sempre, zucchina piano, che fa piano, arriva sano fino a Milano, però devi andare dritto, perché la patata se fa storto, si attrizza da solo, zucchina non si attrizza più, si rompe tutto, quando arrivi la traporta della patata, fermi là, togli qua, togli là, non tiri la patata, devi svidare la patata, svidi, io mi piace la zucchina, quella brutta, io mi piace la zucchina, bruttissima, qui metti carne ripiena, se no metti vetro qua, vetro là, vedi la stella, se volete fare gnocchi, fanno gnocchi, questa gnocchi, quella gnocchi, o fa freddo, o fa lesa, o buttiamo in essa, vedi quella che sogna, prendi la mano tua per fare il limoncello, fantasello piccolo, piccolo come tu, piccolo, 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 ce l'hai piccolo così o più piccolo? Più piccolo, ah vabbè, vabbè, è meglio piccolo di niente, quando metti dentro la patata, devi andare fino al fondo, dentro la patata devi girare fino al fondo là, porta il tavolino sopra un piattino, vedi che carino, apri il tavolo e premi qui, se ce l'ha un pisciolino, le metti sopra la capoccia del pisciolino, se ce l'ha il cagnolino, fa il limone al cane, buono, il cane al limone è buonissimo, il tavolo lo conservo nel frigo qua, dopo 5-6 anni, il limone ancora buono, il cagnolino è morto, se abbiamo un lato, è che il limone per l'altro cane, perché il cane ha 5 anni, 6 anni, anche se vive o scaduto, e quella è numero 2, questa è numero 3, quando infili dentro la patata, zucchina, ravanelli, citrioli, kiwi, la carota, no, avvitare per entrare, 1, 2, 3, 4, 5, se ce l'hai 5, quando cresce un po', ce l'hai 6 in mano, devi girare ancora, e il dito le metti dentro, questo, no, quello, quella no, quella si, metti dentro vai, così vengono le patate, zucchina, citrioli, kiwi, la ravanella, la mela, fino a domani non finisce mai, signor, avete signor, se vuoi uscire pure la sera, fa la collana, però quando finisce, se vuoi pulire anche l'orecchio, spinne forte, gira, esce il cervello, se ce l'hai, non c'è, pisciolino non c'è, cervello non c'è, ma che caglio c'hai, sordi? Ma magari, guarda, a prima no, a seconda fa dritto, ti trovi al bonto, da sopra al bonto vai il tefari, è buono, è meglio per te, e quell'altra qui fa la carota, fino a fino, si chiama Giuliana, qui li pilla tutto, anche l'anima del prosciutto, le carote, le patate, ci vuole la banana, se vuoi fare la capella pure, è facilissimo, avendovi? Si, se vuoi fare la zucchina, metti la carne, anche la mela là, se ce l'ha un pesce a casa, se li fa le squame, se vuoi fare la Giuliana, cammini sopra la carota, così vengono Giuliana, signora, credimi, tre mesi fa, era biondo, bello, maniato le carote, è diventato nero, ecco qua, si chiama Giuliana, signor, se vuoi fare la zucchina, signora, se vuoi fare la zucchina per fare la pasta, fa la pizza, si chiama Giuliana, guarda che buona, una pasta, se vuoi fare il ministero di atatina, zucchina, carota, patate, ci vuole la banana, questa parte è là, se non c'è chiacchio da fare, metti dentro il shampoo, qualche pollo di sapone, fa tutto, quella roba italiana, non è roba cinese, qualche cinese qua, non è roba cinese, signor, non è roba cinese, guarda, metti in Italia, c'è le spiegazioni in egiziano, facile facile, costa dieci e dieci, se prendi due a quindici, ti regalo due a carota, una per maniare, e l'altra, capito, se vuoi cucinare da casa. Grande, bravo, bravo, grazie, signor, grazie, 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 grazie.